In questi giorni si svolgono, come tutti sappiamo, gli europei di calcio dopo il rinvio dell'anno passato dovuto alla pandemia. Fino ad ora la nazionale italiana si sta comportando bene e questo galvanizza la nazione, prostrata da mesi e mesi di chiusure e di paure. I sociologi hanno studiato molto il fenomeno per cui uno sport come il calcio serve da valvola di sfogo già in situazioni normali, figuriamoci, in tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo. In fondo è un bene che esistano queste scappatoie psicologiche per permettere a tanta gente di rilassarsi. Certo, non bisogna nascondersi che questo potrebbe essere anche un modo per tenere occupate le menti delle persone così da evitare di concentrarsi sullo stato delle cose o sulle cose dello stato, se preferite. La nostra nazione è oramai in una crisi permanente e il coronavirus ha solo di più evidenziato certi problemi, non li ha certo creati. In un tempo in cui le grandi narrative non emozionano più, prima fra tutte purtroppo quella religiosa cattolica, il calcio è un utile diversivo. Penso quando, in altri contesti storici, la Chiesa era in grado di coinvolgere larghi strati della popolazione nelle sue processioni, raduni, manifestazioni. Certo, qui parliamo di salvezza eterna, non di un gioco. Eppure la gente sentiva questa identità forte che la teneva unita per uno scopo sopranaturale. Pensate come questo ora sembri veramente lontano nella nostra cultura, una cultura in cui spesso il fatto religioso, più che essere supportato, viene sopportato. Come ho detto molte volte, la Chiesa degli ultimi decenni ci ha messo ampiamente del suo, ma questa è la situazione che ora stiamo vivendo. Ci riuniamo intorno ad una partita di calcio, ma non più intorno all'altare per pregare per la nostra salvezza eterna. Viviamo questo momento in cui possiamo gloriarci di un barlume di identità nazionale, ma la nostra identità religiosa la lasciamo andare via come un relitto in un fiume. Certo, dovremmo fermarci e considerare l'enormità di tutto questo, ma non lo facciamo. Ci crogioliamo delle notti magiche inseguendo un gol, come dice la nota canzone. Certo, tutto questo dovrebbe far molto pensare la nostra gerarchia ecclesiastica, ma sarà a chiedere troppo?